E ragazzi, ce l'avevamo lasciati qua, nella prima parte, dove abbiamo lanciato i tonetti PC-4 sui carri armati, e ecco a voi ora la seconda parte, con il nostro amico Svorrip, che è un grappolo sul time, ok, vediamo sul time in Cina, Svorrip, no, oggi sarà il Svorrip, careccia, careccia, hai una Gaia, ma ma stai vivendo te? Andiamo, andiamo, andiamo ora, vediamo il Damone, ma scusa, quello lì non è il campo nemico, perché continua a esplodere su tutto? Perché ha messo le bombe esplosive sui camion, te lo ricordi? Madonna, Sicilia Abbassati Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Più che va ovunque, sicuramente c'è un passaggio per tutto Ah, e c'è un passaggio per tutto Ah, e c'è un passaggio per tutto Ah, e c'è un passaggio per tutti Il vengalo Dai, cercare su tutti Attacco con il cane, attacco con il cane Attacco con il cane Ma ma usa anche le granate E' arrivando a 30 cm Secca, bene Viene una destra In GTA nella missione finale c'è più bordello Cosa devi fare in GTA al finale? La missione finale devi fare dei panetti Ah, c'è vero Di panetti da... Ah, quello lì è mica la missione di casuale, se no, uccidi No, no, allora lì andò spara la bottiglia il caffè ma mi ha sparato la moto un'altra cosa non si è tolto 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 con il sito niente però non c'è neanche la vita qua vedrai tipo 12 secondi vedrai entrami dentro dove il test dai come lo guardi ah ma questa è la mappa quella del salsicciotto non ho mai fatto questo mappa chi si vede quando gioca online mi ricordo il nome salsiccio 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 c'è una granata perchè ti amicini è lì cos'è eh si sta per morire salsiccio la madonna salsiccio come cercare che ti porti guarda il ricarica ricarica si chiama spruzzo spruzzo si spruzzo si salsiccio si 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 ma 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 Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, 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 non c'è nessuno No, sono bazooka Ce n'è anche uno sopra Sparagli sotto i piedi, così si dà una mossa Sparagli vicino Guarda qua, che figateria Questa è la parte più figa di tutto il giorno Dell'acqua che è sopra Non mi sbaglia Guarda qua, fai un pic-tel Invece di pattuglia Si, non ti vede Con l'acqua fai Piazza c'è una granata sotto L'acqua da gara Bene E' Rally intanto un uomo No, non c'è Rally Questa è la parte più figa? No Eh, proprio schifo E' già stordito di No, non c'è Un po' di Un po' di Ma no, è il tuo mito Madonna ma cos'è un'altra giornata ce l'hai davanti e allora ti spara eeeh c'è lo spazio no 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 e anche da tennis mi era la pallina e dove l'avevi tu? ma scemo un'esercitazione no? ma infatti dovrebbe essere un'arrizione come eserciti è da baseball perchè la macchina sulle pallina devi colpirci anche da venta dai me erano in 12 hai ritrovato la pitta lì il garden un bel blog bilan mostra f Cno no non riusci a farlo è mica come usare il muñez basta basta